Nonostante qualche protesta, la Duma, il ramo basso del Parlamento, ha approvato con 238 voti a favore, 208 contrari e un astenuto, il protocollo per l'ingresso della Russia nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il quorum necessario era di 226 voti. A sostenere l'ingresso di Mosca nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, solo il partito del presidente di Putin, Russia Unita. Gli altri tre hanno votato contro. Dopo il vaglio del Consiglio della Federazione, il presidente Putin ha tempo fino al 23 luglio per mettere la firma.